Mi chiamo Serena Franco, nato il 27-1-26 a Masero. Ma io ero nel primo quattro mesi del 1926 e quindi sono stato chiamato alla Repubblica di Salò a fine di maggio del 44, però non mi sono presentato. Sono stato un qualche tempo alla macchia e poi sono passato con i partigiani nel mese di agosto. Stavo un po' in giro per non farmi prendere dei che mi cercavano i fascisti. Ma io sono sempre stato un po' un po' un sovversivo, non lo so neanche il motivo. Non sono sempre stato un po' contrario a Mussolini. Il mio popolo non ero un politicante, quindi... Ma io già quando andavo a scuola a Domo, alle galette di Domo, all'avviamento, adesso sempre avrei stato un po' contro il falfascio. Perché mi ricordo che una volta al sabato c'era la donata dei fascisti, al sabato. Ero Balino, era avanguardista. E il mattino, siccome stavo andando a prendere il siero per i maiali, giù la latteria, ho incontro due miei coetanei. Uno era il figlio del segretario politico del falfascio, e l'altro dice, dicono, vieni oggi alla donata. E io mi è venuto a mettere, manda via il culo con l'altra donata. Porco caro, gli sono andati a casa di rivolto al papà, e sono un buon mandato a chiamare mio papà e me in sede del fascio qua a Masera. E questo qua dice, se non fosse per te, Tuno, Tuno, mio papà si chiamava Antonio, però come diminutivo lo chiamavano il Tuno. Il fatto che sei una brava persona, lo farei espellere dalle scuole di Domodossolo. L'aveva detto il segretario del falfascio. Perché mi ricordo quando era iniziato la guerra, io andavo alle scuole di Domodossolo, però tutti erano tutti favorati e a favore della guerra, tutti da battere le mani che gli fattivano la guerra, tutti questi ragazzi. Ma io già allora ero un po' contrario a questa cosa qua. Ma no, non lo so il motivo, eh? Poi c'era il mese di agosto, 15 di agosto era. C'era una festa lì a Montecrestese, che era una festa patronale a Montecrestese, 15 di agosto. E abbiamo deciso di andare su alla festa. E c'erano degli altri, dei giovani, di giustizio, di tutte cose. E mentre stavamo solo alla festa, al pomeriggio, è arrivato giù i partigiani che erano su distanza tra Variolla. E allora, come sono arrivate giù, invece di... Ci siamo... Eravamo in 5 o 6, ci siamo aggregati ai partigiani, tutti senza più andare a casa né niente. Lì non avevamo mai nessuna concezione politica, perché le scuole ti insegnavano tutto il roba del fascismo, quindi non è che ero con quella gente anziana che aveva già partecipato a... e sapeva cos'era il socialismo e il comunismo. Noi non è che conoscevamo quelle cose lì. Però sono stato solo aversario proprio così, d'intuito così. E poi alla fine, se abbiamo poi partecipato alla liberazione dell'ossolo, al 9 di settembre, però siccome abbiamo liberato l'ossolo al 9, al 10 anzi, siamo entrati dopo l'ossolo, però siccome noi l'ottava brigata, quella perotti lì, era un battaglione che faceva parte della divisione Piave, che era in stanza in Val Canobina. Canobbio era stato liberato al 2 di settembre, però al 9 erano rientrati i fascisti a Canobbio, quindi la valle che era sguarnita perché i partigiani della Canobbina avevano preso il presidio qua di Masera, era sguarnita, quindi noi alla sera ci ha portati in Canobbina. Eravamo una settantina con due camion e siamo alloggiati all'osteria del ponte di Falmenza, alla notte, tanto ci sono le postazioni della Battista e più avanti, hanno detto. Il mattino, fortuna, vuole che uno esce per orinare e vede in capo in due o tre partigiani che stavano scappando, però loro non sapevano che noi eravamo dentro lì. e abbiamo fatto in tempo ad andare su per i tornanti di Falmenza che quando è arrivato su erano già stati attaccati loro dalla folgore. Quando sono arrivati su e abbiamo preso dentro noi di qua e l'altra della Battista e abbiamo fatto 17 prigionieri, il comandante era stato ammazzato e i diversi morti. Alla Matteotti sono passato dopo il mese di... perché dopo... la perola si è formata dopo... dopo che è finita la Repubblica dell'Ossola, non è restata più perotti, ma si è fatta Matteotti e allora se ne eravamo abbrigati a Matteotti. Abbiamo partecipato poi alla liberazione di Milano e eravamo despericolati, non eravamo niente in testo e quindi non vedevamo neanche il pericolo. Mi ricordo che era il mese di... era il mese di febbraio del 45, perché io ho stato... poi sono andato in Svizzera in campo di concentramento, però il 12 di gennaio rinuavo in Italia e sono tornato con i partigiani. ma ogni tanto scappavamo giù... che ballavano qua nel paese qua vicino e giù a ballare un po' alla sera e giù a ballare io il mio amico, porca madonna... ballavano lì al primo piano, al primo piano e sotto c'era l'osteria o c'era un circolo. Cristo arrivano ai fascisti e arrivano ai fascisti. Porca madonna, cosa facciamo? Ci siamo nascosti nella porta entrata che aveva due ante. Come vengono dentro i fascisti guardano dietro la porta e vengono tutti e due. Porca madonna... Era il tenente dei fascisti di Domo con quattro o cinque di queste ragazzotte di 17-18 anni. Venite con noi, venite con noi... Porca madonna... e vanno sotto un cento metri sopra c'era un'altra l'osteria. Ci siamo fatti dare il piccolo palla Porca ci fa un falbucco 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 invece poi ci avviavamo giù verso... andare verso Clevolo perché ne rischiava un po' invece gli era uscito la macchina per il prato gli abbiamo aiutato tirando sulla macchina e abbiamo fatto bandone insieme tutta notte poi... altro che paura perché pensavamo quando ci hanno detto di prendere il piccolo palla qua è successo qualche qualche colpo di mano per prendere la presaglia ci fa un falbucco invece no quando hai la fortuna ti vuole aiutare perché se se per caso ci viene in mente di scappare ti ammazzavano ricordate però fortunate se ne mettessimo tempo perché in quei momenti lì o c'hai fortuna altrimenti vai male una volta lì era una volta che ho avuto più paura del sud ma no no io ero 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 contrario al fascio perché mi ricordo ancora nel 40 41 c'era qua la milizia qua come si era ed erano quelli di Cremona con la M sul capello e io e il mio amico qua che è lui era del 24 eravamo fuori in piazza e stavamo stavamo discutendo contro Mussolini io e il mio amico non ci siamo accorti che c'era un fascista che ci sentiva tutto in un momento un fascista mi ha dato un'anerbata a me perché stavamo discutendo avendo sentito che parlavamo male però siamo riusciti a scappare tanto per dire sono sempre stato sovversivo non lo so neanche il motivo perché non ero un politicizzato sì sì sono sempre stato convinto sono ancora convinto adesso di aver fatto la roba giusta anche se se in questo momento con il revisionismo storico che c'è se se andiamo avanti di questo posto la resistenza l'hanno fatta i fascisti non noi alla fine della guerra è stato un periodo che io ho constatato che i figli noi abbiamo parlato poco di quello che avevamo fatto e i figli non avevano chiesto però i nipoti sono molto più propensi a chiedere le cose che avevamo fatto questo è una cosa che va bene però c'è stato quel periodo lì che è stato un periodo morto insomma per quello quello è successo il tempo della guerra e tutto i genitori non hanno parlato ai figli non avevano chiesto e la cosa è andata un po' così però i nipoti sono propensi a vogliono sapere cosa era successo o non è successo noi contavamo con quelli che chiedevano però non erano molti che chiedevano a quel tempo di cosa era successo ma io sono sempre stato convinto di aver fatto la cosa giusta e sono ancora convinto adesso però però le cose non sono andate come speravamo noi quando abbiamo fatto la resistenza però in un mondo molto più giusto invece alla fine della fiera adesso prevalgono certi sentimenti di 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 razzismo che non pensavamo che fossero scomparsi in seguito a quello che è successo invece se pensiamo alla questione dell'olocausto e tutto che adesso mettono in discussione che sia vero che c'erano campi di sterminio figuriamoci eh c'è un po' di 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 rammarico per questo però poi la gente al tempo della liberazione dell'osso erano tutte con i partigiani sì sicuramente era sicuramente positiva la scelta solo che non so poi con tutti e molti che ci sono stati se voleva la pena di farlo no però in principio erano tutti abbastanza d'accordo della liberazione di aver finito la guerra perché poi il tempo di guerra non è che siano stati tanto bene poi le scelte che ha fatto Mussolini non erano tanto favorevoli alla gente la gente era abbastanza stufa dal fascismo agli inizi però alla fine l'apparato burocratico che c'era non è mica cambiato niente perché l'apparato burocratico fascista è tornato fin quando sono finiti i fascisti non è che che hanno cambiato l'apparato burocratico trovo che adesso se andiamo avanti di questo passo ritornano i fascisti quello che si è fatto è fatto inutilmente anche se per intanto per 75 anni non c'è stata non c'è più la guerra però c'è pericolo che ritorna magari non era una forma di allora però una specie di totalitarismo c'è in giro non c'è la guerra non c'è non c'è